Novità, novità, novità FoodSpringers! Guarda che ci è arrivato oggi due nuovi gusti della Protein Bar, però questa non è una baretta protetta, questa è qualcosa di più. Questo è lo spuntino, il godereccio, dopo pranzo, dopo cena, dopo l'allenamento quando vogliamo, proteine, anche un po' di zuccheri ma non troppi, perché qui abbiamo delle barette che hanno un ridotto quantità di zuccheri semplici, usano altre moleque per dare una sensazione di dolce, ma senza incaricarci di zuccheri semplici, di cargolidrati semplici. Allora, guardiamo quanti calorie abbiamo, 243 calorie per una baretta, ok, e il nostro proteine girano intorno a 18-19 grammi e poi i zuccheri, i cargolidrati sono 22, però soltanto 3 che sono zuccheri semplici, 3 grammi di zuccheri semplici, così abbiamo il gusto dolce che ci appaga l'appalato, ma senza avere i zuccheri che poi si magari agiscono sulla glicemia. In più le proteine rallentano l'assorbimento del zucchero nel sangue per darci magari un senso di sazietà per più tempo, ed in più dopo, quando c'hai voglia di qualcosa, anziché correre alle macchinette nel lavoro, che è pieno di quelle cose che ha, non sappiamo veramente che c'è dentro, purtroppo ti dà un picco di energia, poi avrai un calo glicemico e avrai fame più velocemente. i gusti sono buonissimi, perché sono muosi, questo per me più di una barretta proteine è proprio un dolce, cioè mangiarlo come tale, anche dopo, questo è cioccolato bianco e mandorla, questo è nuovissimo, è buonissimo, poi sono ingordo di cioccolato bianco, lo so, scusate, lo so, non è cioccolato, però io adoro cioccolato bianco. Ragazzi, bomba, cioccolato bianco e mandorla, e l'altro è il doppio cioccolato, extra cioccolato, doppio cioccolato con anacardi, cashew, allora, double chocolate cashew, doppio cioccolato anacardi, cioccolato bianco e mandorla, ok, white chocolate almond, questo è un pizzico più dolce, questo è più amaro come cioccolato amaro, proprio chi ama, chi ama proprio cioccolato amaro, le due nuovissimi gusti di FoodSpring, e non dimenticate sempre di utilizzare il mio codice sconto, GILYT per avere 15% di sconto alla vostra checkout, provateli perché sono buoni, e si può anche mischiare, si può anche prendere un pacchetto misto di questi delizi di FoodSpring che sono usciti oggi sul sito FoodSpring.it, andate, provate, iscrivetevi perché voglio sapere come vi trovate. Baccio da GILYT e da FoodSpring, ciao!